Carissimi amici, fratelli e sorelle, buona serata a tutti. Il Vangelo di oggi ci fa riflettere, ci aiuta a pensare al rapporto che esiste tra il sacerdote e i fedeli. Attraverso il Vangelo di Giovanni si parla oggi delle pecore e del pastore. Gesù si definisce il buon pastore delle pecore, ma ancora di più si definisce anche la porta attraverso la quale passano le pecore e nel passare lui le riconosce tutte quante, una ad una. Ma è anche vero che le pecore conoscono lui. Possiamo dire con molta tranquillità che questa riflessione oggi riguarda più noi sacerdoti che voi fedeli, ma io chiedo ai fedeli oggi di darci un pochino di attenzione, nel senso che abbiamo bisogno delle vostre preghiere. Certo, in un mondo così particolare come il nostro è anche vero che spesso vediamo pastori che non danno la vita per le pecore, come dice Gesù, ma succede il contrario, che sono le pecore che danno la vita per il pastore. Certo, anche questa sarebbe una bella immagine, ma quello che Gesù intende è che le pecore non bisogna sfruttarle e basta. Ma le pecore bisogna accudirle. Certamente il rapporto che esiste tra noi e l'igregge, tra i sacerdote e i fedeli, è un rapporto importante, un rapporto attraverso il quale transita la bontà di Dio, perché noi sacerdoti siamo stati messi qui come custodi dell'igregge, ma essere custodi significa anche pascere, aiutare. È vero, ci sono sacerdoti che non amano questa dimensione e nella loro debolezza dobbiamo spingerle a convertirsi, dobbiamo pregare per loro. Certamente un domani il Signore non ci chiederà se l'abbiamo amato attraverso le nostre solenne liturgie, mettendoci caso le dorate, tempestate di gemme, messe con non so quante candele, ma credo che ci giudicherà di come ci siamo posti dinanzi al nostro gregge, se abbiamo fasciato le ferite, se abbiamo sanato le malate, se ci stiamo avvicinate alle bisognose, se è veramente come Gesù abbiamo preso la pecora ammalata, stanca e ce la siamo portata sulle spalle e così via. Questa categoria di sacerdoti oggi li chiamano preti di strada. A me è una definizione che non piace. Siamo preti e i preti devono essere ovunque, in tutti i momenti della vita della pecora. e il fedele si serve sapendo già che quella pecora è un'immagine di Cristo. Allora, cari amici, pregate per noi sacerdoti soprattutto. Preghiamo per i sacerdoti che non sono fedeli, preghiamo per quelli che pensano che servire il gregge significa essere altisonanti, ben vestiti, ben profumati e magari alla pecora ammalata non intendono e non vogliono avvicinarsi. Ma preghiamo anche per quei sacerdoti che invece si perdono in mezzo al gregge e qualche volta si confondono perché anche loro temono di diventare pecore. Certo, lo siamo perché anche noi abbiamo bisogno del nostro pastore nella figura del vescovo, eccetera. Quindi la vostra preghiera per i vostri sacerdoti è importante ed è importante per noi conoscere ciascuno di voi di una a una mentre attraversate la porta della vita. Ma anche noi amiamo essere riconosciuti dal nostro gregge perché è lì che il Signore ci ha posti. Auguri a noi allora e auguri a voi perché il Signore voglia benedirci tutti quanti. E quindi approfitto di questo momento per benedire ciascuno di voi e le vostre famiglie e in particolare le nostre comunità parrocchiali. Vi benedica il Signore nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica a tutti. Ciao.